buonasera a tutti carissimi telespettatori internauti salvo mandara e vi sto parlando in diretta da abbiate grasso il motivo di questa mia incursione estemporanea senza alcun preavviso è solo quello innanzitutto di dare un aggiornamento perché l'ultima trasmissione su questo canale Ustream è avvenuta una settimana fa praticamente e mi sembrava corretto darvi qualche aggiornamento allora come ho detto durante l'ultimo intervento su questo canale diciamo che a causa delle diverse funzionalità tra il canale Ustream e il canale YouTube avevo preso la decisione di continuare con le dirette da studio diciamo cioè non quelle in mezzo alla strada in mezzo alle piazze eccetera usando esclusivamente YouTube perché ritengo ritenevo e continuo a ritenere che YouTube sia una piattaforma molto più utile diciamo per delle trasmissioni fisse diciamo da studio tuttavia per la trasmissione che faremo stasera che sarà un'anteprima e un modo per selezionare gli argomenti per le prossime puntate ho pensato che probabilmente il servizio di polling cioè di sondaggio che Ustream permette di fare in tempo reale potrebbe essere utile anche se in effetti non è l'unico mezzo perché si può fare anche un sondaggio via Facebook e allora ho pensato che probabilmente stasera nella diretta che faremo stasera potremmo anche utilizzare insieme al canale YouTube anche il canale Ustream dal quale vi sto parlando in questo momento e allora niente vorrei invitarvi a stare allerta stasera se siete interessati ovviamente a questo tipo di trasmissioni perché intorno alle 21 e 30 21 e 45 comunque su Facebook e sul canale YouTube ci sarà un avviso con l'orario preciso cominceremo una una diretta parlo al plurale perché oltre a me ci saranno i soliti miei compagni di viaggio Giancarlo Lopresti Massimiliano Pierini Marco Nisida e poi ci sarà anche Fulvio Utique che avete visto chi l'ha visto solamente nell'ultima puntata che abbiamo fatto comunque Fulvio Utique è l'autore del logo della tv 5 stelle tv in movimento benissimo allora questo breve messaggio era solo per questo per invitarvi a venirci a seguire stasera sul canale YouTube e anche su questo canale Ustream cercheremo di fare veramente tv democratica dal basso nella scelta degli argomenti per le prossime puntate a questo proposito do in anteprima qui su Ustream un'informazione che non ho ancora dato ai utenti YouTube che poco fa un'oretta fa circa ho avuto il piacere di parlare con Paola Musu l'avvocato di Cagliari che il 2 aprile del 2012 ha sporto denuncia contro le massime cariche dello Stato per tradimento della Costituzione e tutta una serie di articoli ecco ho parlato con Paola per chiederle la disponibilità a partecipare ad una diretta proprio focalizzata sul tema della sua denuncia sono molto contento di dirvi che Paola ha accettato l'invito e quindi non sono in grado di dirvi una data esatta in questo momento perché dovremo concordarla con l'interessata ma posso già dirvi che presto probabilmente nel giro di una due massimo tre settimane dovremmo avere una puntata dedicata a Paola Musu alla sua denuncia e a tutto quello che questo può far riferimento. Bene allora per il momento è tutto quindi appuntamento a questa sera alle 21 e 30 circa su questo canale e anche sul canale YouTube per costruire insieme le prossime puntate e decidere anche in quale serata fare queste dirette perché ci sono diciamo due scuole di pensiero c'è la scuola di pensiero che sarebbe la mia che è quella che vorrebbe queste dirette il giovedì per andare di proposito in concorrenza con servizio pubblico di Santoro perché noi riteniamo che la nostra sia una televisione fatta in casa fatta dal basso fatta da noi stessi che non ha nulla a che vedere con servizio pubblico che fra l'altro comunque chi vuole può vedere diciamo anche uno può stare con un occhio da una parte con un occhio dall'altra però devo ammettere perché ci piace essere o almeno provare ad essere democratici che invece molti utenti dicono ma no non fatele di giovedì fatemi guardare in Santa Pace Santoro e poi mercoledì invece posso guardare voi e allora questo è un argomento da mettere ai voti quindi sarete voi cari utenti a decidere alla fine se la trasmissione che diventerà un appuntamento regolare sarà il mercoledì o il giovedì quindi per discutere di tutto questo tutti insieme attraverso i vari social forum quindi twitter piuttosto che facebook piuttosto che skype you stream e youtube appuntamento a questa sera intorno alle 21 e 30 probabilmente magari un po più tardi perché vi confesso che intorno alle 21 ci sentiremo con gli altri conduttori per vedere qualche dettaglio tecnico e per cominciare ad approntare la diretta e poi quando saremo pronti appunto intorno alle 21 e 30 andremo in onda permettendo a tutti di partecipare con i commenti eccetera eccetera io adesso chiudo questa diretta vado un'oretta a riposarmi e a fare un po di palestra sono già qui al parcheggio della palestra dove faccio un po di bodybuilding e quindi un'oretta e mezza stacco i telefoni stacco tutto quanto e poi si cenerà naturalmente intorno alle 21 e 30 si comincia allora vi aspetto mi raccomando fate girare questo link vi aspettiamo numerosi così facciamo veramente tv dal basso democratica fatta da voi e da noi tutti quanti insieme per il momento è tutto salvo mandarà in diretta da via de grasso vi saluta appuntamento a questa sera grazie ciao grazie a tutti